Da oggi sarà possibile utilizzare varie forme di finanziamento sia europeo che nazionale per migliorare le aziende che verranno confiscate o che sono state confiscate alla mafia o ai politici corrotti. Siamo la prima regione italiana che investe e incentiva la cultura di impresa che si sviluppa assieme alla cultura dell'antimafia sociale. Per noi l'economia diventa uno strumento di lotta alla mafia, di lotta alla corruzione attraverso la spinta, l'incoraggiamento soprattutto ai giovani ma anche ai meno giovani a utilizzare questi beni confiscati che spesso giacciono presso le agenzie che debbano gestirli inutilizzati con l'aiuto anche dei fondi della regione Puglia. È un segno importantissimo del quale ovviamente ringrazio tutti coloro che si sono prodigati in questo senso e ovviamente dedico questa conferenza stampa a Stefano Fumarulo che è stata la persona con la quale per prima abbiamo elaborato questa specie di sogno che oggi si realizza.